Ciao ragazzi, sono sempre io, Power. Mi dispiace se in questi giorni ho pubblicato solamente gameplay, senza magari spiegazioni di qualche perk, tattiche, non sto facendo nemmeno Power Personal Trainer, ma sfortunatamente sono da circa 3 giorni ammalato con febbre altissime, e avere dai 39 ai 40 più di febbre non riesco nemmeno a stare in piedi quasi, infatti ora sono sdraiato a parlare. Comunque, voglio parlarvi comunque di quelli che sono i progetti ora che ho preso la One, perché come sapete oggi, che è il 22 novembre, che è tra l'altro il giorno del mio compleanno, che è l'uscita dell'Xbox One. Oggi ho preso la One, ho preso la One con Ghost, e prometto che nei prossimi giorni pubblicherò gameplay, spiegazioni, se magari troverò differenze eclatanti, e magari cose che si possono fare sulla One che non si possono fare sulla 360, sempre riguardo Call of Duty. Vi voglio parlare anche un po' di quelli che saranno i progetti futuri ora che è uscita questa nuova console. Per prima cosa, ora a breve uscirà la modalità guerra tra clan, e come avete visto già ad oggi è stata implementata l'MLG Settings nelle partite private e il Rebroadcaster Mod. Cosa sono i Rebroadcaster Mod? È un po' come il cinema, cioè il Codcaster e il cinema di Black Ops 2. E i settings sono dei settaggi che voi potete attivare e giocare quindi subito in partita privata senza doverli settare, eccetera, eccetera, che verranno sempre aggiornati dall'Activision tramite l'MLG. Comunque, oltre a questo, rinizierò la serie Power Personal Trainer. Ho trovato molti nuovi consigli che potrete usare, molte nuove tattiche, molte nuove cose da fare per poter migliorare la vostra mira, la vostra skill, il vostro multitasking e così via. Oltre a questo, inizierò nuove serie che riguardano quelle dei call-out. Saranno molto precise, saranno call-out che vengono usati sia da noi giocatori italiani, cercherò di italianizzarli, ma saranno principalmente call-out veloci, quindi per esempio top, mid, bot, che vuol dire bot sotto, mid, centro, top, sopra, per esempio, si userà sempre. Quindi, non potete farci niente, alcuni termini inglesi bisogna usarli per forza, sono molto più semplici e più rapidi da usare. Oltre a questo, voglio parlare di quello che porterà la One. Come sapete, trattare questo gioco per un anno penso sia impossibile, anche se mettessi gameplay di Scream, dopo un po' stuccherebbe, vi annoierebbe, vi rompereste i coglioni. Praticamente già in queste due settimane, sì, sono passate due settimane dall'uscita, ho scoperto quasi tutto lo scopribile in questo gioco, quasi tutti i segreti, come la corsa infinita, ad esempio, ho scoperto anche un modo per fare punti più velocemente, come fare punti doppi, tutte queste cose. E, oltre a questo, volevo dirvi che praticamente tratterò anche di altri giochi. Perché voglio trattare di altri giochi? Perché io non gioco solo a COD, sono sì un fanatico degli FPS in generale, però amo anche i giochi di ruolo, gli MMO e RPG, cioè giochi di ruolo massivi online. Quindi se ne avrò l'occasione, proverò e giocherò alcuni di questi, quelli ovviamente più innovativi e più divertenti. Per esempio, non so se voi conoscete Dark Soul, ma è un gioco che a me è piaciuto tantissimo sull'Xbox, era uscito prima per PS3 e poi l'hanno fatto anche per Xbox. Praticamente questo gioco era stato uno dei giochi più difficili a cui ho giocato. Mi ricordava un pochino quando io da piccolo giocavo ai giochi open world di ruolo e non ci capivo niente, magari. Qua in questo caso ci capivo, però era veramente una sfida. Battere un boss, magari dopo tre giorni che riprovavo a fare questo boss, non ci riuscivo. Allora andavo a chiedere a un mio amico, che ce l'aveva anche lui, e lui mi diceva, guarda, devi fare così, io l'ho battuto, capito? Era pure bello il fatto di potersi vantare di averlo battuto, di aver fatto delle cose veramente difficili. Ci sono, se vedete su YouTube, ci sono diversi video di gente che gioca a questo gioco sclerando perché è molto divertente, richiede molta abilità, quindi sicuramente lo tratterò perché uscirà il sequel su Xbox One. Giocherò anche a nuovi FPS sicuramente, come Titanfall, che è uno forse dei giochi che aspetto di più su questa nuova console. E proverò anche i nuovi MMORPG, come ad esempio Destiny, che penso tutti abbiate visto, che sarà il nuovo gioco rivoluzionario della Bungie, della Bungie, scusate, che rivoluzionerà tutti i giochi di ruolo FPS massivi online. Comunque, oltre a questo, spero di riprendermi presto da questa febbre e di riniziare con serie importanti, perché, ovviamente, pubblicare gameplay in cui tiro cam o voi guardate così mi fa pensare... Vabbè, vi state un po' annoiando. Quindi, non lo so, preferisco che voi guardiate qualcosa di più divertente, di più innovativo, che vi faccia un po' più... non lo so, capire il gioco come funziona, cose che magari non saltano subito all'occhio, piccoli consigli che messi tutti assieme, magari in una serie di video, possono fare qualcosa di grande. Quindi, scusatemi per questo inconveniente, ci si becca al prossimo video. Bella raga!